Sciolta l'assemblea permanente dei lavoratori del Corisa 4 a Vallo della Lucania. Gli operai si erano riuniti in assemblea presso gli uffici del Consorzio il 25 gennaio scorso, in attesa di risposte da parte del commissario Americo Montera, in merito al proprio futuro lavorativo. Abbiamo convenuto su due punti, spiega Dante De Luca, operaio del Corisa 4, con il commissario Montera e con il suo collaboratore Bruno, in merito alla revoca dei licenziati. Entro dieci giorni ci sarà un tavolo tecnico per verificare i tempi per la ripresa delle attività lavorative. Martedì, spiega il commissario Montera, ho consegnato al presidente della provincia la relazione dell'avvocato Pasquale Visconti, esperto in diritto del lavoro, in merito alla situazione dei licenziati. Nel contempo ho presentato una mia personale relazione sulla riapertura dell'impianto di Valloscalo. Nel dettaglio, nel verbale sottoscritto da lavoratori ai vertici Corisa 4, i licenziati verranno reintegrati nelle liste di disponibilità regionali, l'Ormel, poi verranno analizzati gli step da compiere per la riapertura dell'impianto di selezione del secco di Valloscalo, che favorirebbe il rientro al lavoro dei circa 30 lavoratori, che dal 1 gennaio sono senza impiego. A lavorare al momento sono solo i circa 10 amministrativi. Tutti e 40 i lavoratori non percepiscono lo stipendio da circa 18 mesi.